Ehi, mettiamo adesso con me. Tieni. Uno, due, tre. Ehi, mettiamo adesso con me. I nostri ospiti, cari amici, buon poveriggio. Mi chiamo Tien. Sono un segnante di Cinese, il segnante di Occhio del Leone, l'ambasciatore straordinario per gli potenziali della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana, il segnante di Weiyue, e la Presidente della Commissione Turismo e Mora e Relazioni Internazionali, Valentina Turin. Ehi, mettiamo adesso con me. Invezziamo di nuovo l'ambasciatore e l'onorevole Valimpera Grinco. E ora torniamo sul parco, l'ambasciatore deve dire un discorso. Ehi, mettiamo adesso con me. Ehi, mettiamo adesso con me. Ehi, mettiamo adesso con me. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.